Siamo giunti al termine di questo meraviglioso tour alla scoperta di Ascoli Piceno Dopo ben 90 puntate tra storia, tradizione, leggende, cibo e tanta meraviglia Tra chiese, ponti, palazzi storici, quintana, piazze, ruette e torri Vi ringrazio per averci seguito in tantissimi alla scoperta della nostra meravigliosa Ascoli Scopriamo Ascoli ha raggiunto paesi inaspettati come la Germania, l'America e la Cina Ma soprattutto numeri pazzeschi, oltre il milione e mezzo di visualizzazioni Ringrazio l'amministrazione comunale e il sindaco Marco Fioravanti per averci sostenuto in questo progetto e per aver creduto in noi Ogni angolo di Ascoli resterà per sempre nel web A disposizione di coloro che anche solo per curiosità vorranno scoprire qualcosa in più della nostra bella e bellissima città Scopriamo Ascoli termina qui Grazie per averci accompagnato in questa meravigliosa avventura Grazie a tutti Grazie a tutti